Ciao Raffaele, un saluto a tutti gli amici di Sottoportascio e a tutti gli ascoltatori di Radio No Frontiere. Diciamo che senza dubbio nel corso di tutta questa settimana l'argomento principale, se non direi il pensiero unico di tutti noi tifosi, è stato quello rivolto al big match di questa sera tra Napoli e Juventus. Partita quella con i bianconeri che, come sappiamo, già di per sé rappresenta un match dai mille risvolti calcistici e non. Sappiamo che per tutti noi tifosi del Napoli, tra luglio e agosto, quando si stilano i calendari, la prima partita che andiamo a cercare, la prima data che vogliamo cerchiare in rosso, è sempre quella della partita contro la squadra bianconera. E quest'anno, in questa stagione, ancora di più, la sfida assume i connotati dell'incontro, se non decisivo, comunque ampiamente importante, dato il momento della stagione e la situazione in classifica delle due squadre. Abbiamo Napoli che finalmente arriva allo scontro diretto con la Juve, rispetto a quanto visto negli ultimi anni, con un distacco anche superiore ai tre punti. Quindi vado a memoria, credo sia la prima volta in cui il Napoli, almeno in questi ultimi anni di Serie A, affronta la Juve in una situazione in cui, pur perdendo e ovviamente facciamo gli scongiuri, rimarrebbe, diciamo, in una situazione di classifica superiore a quella dei rivali. E sicuramente la partita di stasera, come dicevamo, non è decisiva, perché dopo la sfida di fuori grotta mancheranno comunque i 23 giornate, che sono un'infinità, e un lasso di tempo in cui può succedere veramente di tutto, ma la partita di stasera, qualora avesse per Iazzurri un risultato positivo, potrebbe costituire un segnale veramente importante, dato non solo alla Juventus, ma all'intero campionato. Io credo che per quanto Roma e soprattutto Inter in questo momento, anche se ti dico la verità, io considero la Roma complessivamente superiore all'Inter, e comunque credo che per quanto entrambe queste squadre stiano facendo benissimo e siano in piena lotta per il vertice, questo ce lo dice la classifica, non abbiano quella attitudine alla vittoria ancora e quella cattiveria che può avere la Juve, per cui io credo che comunque il vero avversario nella lotta al titolo per il Napoli sia ancora la Juventus quest'anno. Batterli in casa significherebbe accumulare, quando ormai abbiamo superato già da qualche giornata il terzo di campionato, un vantaggio di 7 punti, che se è vero che appunto siamo ancora a inizio dicembre, quindi tutto è ribaltabile, è vero anche che in un campionato dove il Napoli in 14 giornate ha lasciato per strada solo 4 punti, inizierebbe a essere un distacco non così da poco conto. Ed è chiaro però, allo stesso tempo, proprio considerando quanto siano vicini anche Inter e Roma, che il Napoli deve giocare per vincere questa partita, come tutte, non può fare calcoli, però io ti dico che sono abbastanza fiducioso sul fatto che i ragazzi di Sarri, come lui poi ha più volte detto in varie dichiarazioni, anche nelle scorse annate, riescano a trasferire sul campo l'attesa e i sentimenti che il popolo napoletano tutto prova verso questa partita e ripone nella sfida contro la Juventus. Io penso che queste sono quelle partite che da sole danno a un calciatore le motivazioni e l'energia per essere affrontate al meglio, quindi è vero, noi abbiamo visto un Napoli non brillantissimo come inizio stagione nelle ultime uscite, da un punto di vista proprio di costruzione del gioco e di occasioni create, siamo un po' calati, però io penso che queste partite appunto sono una storia a parte, quindi sono convinto che di fronte alla squadra di Allegri vedremo il Napoli con il suo vestito migliore. È una partita troppo importante appunto sia per la classifica, sia per l'avversario che va ad incontrare, sia per quanto ci tiene la gente di Napoli e quindi sono ampiamente fiducioso. Probabilmente dal punto di vista tattico, se posso fare un mio pronostico su chi potrebbero essere i giocatori decisivi in questo match, io ti dico che secondo me potrà dare un grande aiuto al Napoli per cercare di portarlo alla vittoria Lorenzo Insigne, perché su quella fascia può davvero mettere in difficoltà la difesa bianconera e ti dico anche che io punterei, io in genere non gioco mai bollette, non scommetto, però se avessi un euro, due euro, se volessi puntare appunto una piccola cifra su un marcatore, io punterei sul nostro capitano, su Marekamosic, perché questo è più che da detto ai lavori, questo è un giudizio diciamo da tifoso, da sentimentale, mi piace pensare che il destino abbia tenuto Marek lontano dal gol in questi ultimi due mesi, proprio per permettergli di gioire e di raggiungere il tanto atteso record dei 115 gol proprio nella partita più importante. Tra l'altro Juve che è una delle vittime preferite di Amsic che ha segnato in carriera più e più volte anche nel corso della scorsa stagione, ricordiamo che violò la porta di Buffon sia in campionato segnando il gol dell'1-1 nel ritorno al San Paolo, sia nel ritorno di Coppa Italia nella vittoria 3-2 del Napoli che purtroppo si rivelò inutile in quanto comunque si qualificarono i bianconesi. Saluto te e tutti gli amici di Sottoporta Show con un grande sempre forza Napoli, augurandoci di poter poi parlare di un buon risultato nel nostro prossimo incontro e buona partita a tutti!